Oltre 300.000 migranti hanno attraversato il Mar Mediterraneo nel 2016. A renderlo noto è l'UNHCR. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, si tratta di un dato in netto calo rispetto ai 520.000 arrivi registrati durante i primi nove mesi del 2015. Nonostante la diminuzione dei tentativi di traversata, sono cresciuti tuttavia i tassi di mortalità e il 2016 è sulla buona strada per diventare l'anno più letale mai registrato nel Mediterraneo. Finora 3.211 migranti sono morti o dispersi nel Mar Mediterraneo nel 2016, solo il 15% in meno rispetto al numero totale di incidenti mortali per tutto il 2015. Secondo i dati raccolti dall'UNHCR, sono arrivati in Italia 130.411 migranti contro i 132.000 del 2015. La Grecia invece ha registrato un calo del 57% negli arrivi di quest'anno grazie all'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia sul controllo dei flussi migratori in tutto il Mediterraneo. Quasi la metà dei migranti e rifugiati sbarcati sulle coste greche, conclude l'UNHCR, quest'anno sono stati siriani.